...periodo estivo, insomma, vi vedete tutte le gare, eccetera. Nell'automobilismo la tua auto va dove vanno i tuoi occhi. Un pilota che non riesce a togliere lo sguardo da un muro si schianterà contro quel muro. Ma il pilota che mantiene lo sguardo sulla pista mentre gli pneumatici volano, quel pilota manterrà il controllo sulla sua auto e sul suo destino. Capii che Danny aveva fatto proprio questo. Era riuscito a vincere perché aveva bisogno di vincere. ...quando Zoe ha finito la scuola. Oh sì, certo. ...le chiavi. Ok, ti chiamo stasera. Ok. Ciao bello. Ehi tesoro, quello mi serve.